buonasera buonasera amici eccoci siamo tornati anche questa sera con una nuova puntata del nostro programma vi pongo una domanda che giorno è oggi esatto è il 31 ottobre quindi questa notte festeggerete chi più chi meno la notte di halloween bene anche noi come ogni anno questa notte ci affideremo al nostro inviato che come ben sapete andrà ad esplorare un luogo segnalatoci da voi ascoltatori come particolarmente misterioso ricorderete con noi che negli anni passati il nostro inviato sprezzante del pericolo ha perlustrato ponti case abbandonate cimiteri di campagna ma non siamo stati particolarmente fortunati che questa sia la notte buona perché quest'anno un nostro ascoltatore ci ha dato un indirizzo di un'abitazione dove ci assicura che ci sia un fantasma ma non un fantasma qualunque bensì quello di un pluriumicida e che pare non gradisca particolarmente i visitatori quindi amici ascoltatori ed ascoltatrici mettetevi comodi perché stiamo per entrare in una vera e propria casa infestata grazie a tutti Grazie a tutti.